Benvenuti nel mio giovedì! Tornata da scuola con l'autobus ho mangiato questo brodo per pranzo con un po' di pastino e formaggio che per me quando inizia il freddo è proprio un must e per secondo un po' di zucchine, patate e fagiolini e dopo aver avuto la premiere su youtube ho dormito un'oretta e mezza, ero veramente stanchissima e poi mi sono vestita e sono uscita per andare a rifare le unghiette era da più di 6 settimane che ce l'avevo e le ho fatte tutte brillantinose e rosa, mi sembrano troppo da Barbie le adoro poi abbiamo preparato la cena, ho mangiato questa frittata con un po' di insalata, zucchine, carote guardando X Factor, poi ho preparato la borsa di danza e la cartella e sono andata a letto